Il nostro servizio è anche organo di vigilanza, quindi abbiamo un ruolo di controllo sull'applicazione della normativa in salute e sicurezza. In questa iniziativa ci poniamo anche in un momento di informazione e assistenza verso il mondo agricolo e quindi procederemo a questa fase di informazioni su alcune priorità nell'ambito agricolo e poi ci seguiranno anche dei controlli che saranno i controlli in qualche maniera programmati.